Musica Rigassificatore a Piombino, il governo ha chiamato a fornire dettagli prima di decidere. Approvata la risoluzione del Partito Democratico, Gianni, commissario per la realizzazione dell'opera, riferisce sull'iter previsto dalla normativa. La procedura è agevolata, 120 giorni per l'autorizzazione. Due serate per assaporare le prelibatezze enogastronomiche di chef e maestri pasticceri pratesi nei due bellissimi chiostri del centro storico, quello di San Domenico e quello del Duomo. Sarà possibile lunedì 4 e martedì 5 luglio, quando andrà in scena da chiostro a chiostro. Rigassificatore a Piombino, 120 giorni per l'autorizzazione. Al termine del lungo dibattito sulla comunicazione della Giunta in merito all'ipotesi di posizionare un rigassificatore nel porto di Piombino, l'Aula di Palazzo del Pegaso ha votato a maggioranza la proposta di risoluzione del Partito Democratico, con 22 voti a favore, 12 astenuti e un voto contrario, quello del portavoce dell'opposizione Marco Landi. Il gruppo del PD non giudica adeguate le modalità adottate dal Governo riguardo alla decisione di individuare, senza la minima concertazione istituzionale, il porto di Piombino come sede di uno dei nuovi rigassificatori da impiantare in Italia. Da qui una proposta di risoluzione che impegna il Presidente della Giunta regionale ad attivarsi tempestivamente al fine di definire un progetto complessivo per il rilancio del territorio di Piombino da sottoporre al Governo che tenga insieme i temi della rigenerazione produttiva, del risanamento ambientale e delle infrastrutture. Nell'atto si chiede in particolare di affrontare il rilancio del settore siderurgico, la bonifica e il risanamento ambientale, la riconversione ecologica, finalizzata a fare di Piombino un distretto delle rinnovabili, lo sviluppo dell'infrastrutturazione del territorio, compresi il potenziamento e l'accesso al porto e ancora gli incentivi per attrarre nuovi insediamenti produttivi. Argomenti che sono presenti anche nel memorandum in dieci punti per le compensazioni, stilato dal Presidente Gianni e illustrato in aula assieme all'iter previsto per la realizzazione dell'opera. Secondo la procedura agevolata, individuata a livello nazionale, sarà proprio il Presidente della Toscana, in qualità di commissario, a rilasciare l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di regassificazione di gas naturale liquefatto nel porto di Piombino entro 120 giorni dalla data di ricezione dell'istanza e senza procedure di valutazione ambientale. Il progetto di massima di SNAM prevede l'ormeggio presso la banchina est della Darsena Nord del porto di Piombino di una nave di poco meno di 170.000 metri cubi di capacità di volume stoccato. Il metano gasificato verrà trasferito poi via condotta sino al punto d'ingresso della rete nazionale gasdotti, posto a circa 8 chilometri. Voglio che tutti gli enti preposti e tutte le condizioni per assicurare sicurezza e impatto ambientale devono essere garantite. Questo anche senza la valutazione di impatto? Ma certamente, possono esserci tutte le normative che si vuole, ma l'obiettivo delle norme è sempre uno, la salute e la sicurezza dei cittadini. Quindi niente può transigere dal fatto di avere tutte le condizioni perché venga assicurato questo. Secondo elemento, io ritengo che Piombino debba avere una prospettiva nella logica e nella strategia del Governo nazionale che ha deciso il posizionamento nel porto Piombino della nave di risgassificazione tenendo conto di tutte quelle che sono state le esigenze che non sono state concretizzate in questi anni. Quindi ho fatto un memorandum che è un decalogo con 10 punti e che prevede una serie di adempimenti su cui io voglio una disponibilità e soprattutto una concretezza da parte del Governo sul piano delle bonifiche, sul piano delle infrastrutture stradali che consentono di evitare il traffico che va verso il porto nella città, sul piano della nuova visione del promontorio e quindi sulla realizzazione di progetti di energie rinnovabili, eolica, fotovoltaica ma anche di realizzazione di un distretto per la produzione di idrogeno e poi il rilancio della siderurgia con forno elettrico, non certo con l'inquinante alto forno e naturalmente anche il completamento dello stesso porto che finora è stato realizzato a spese della Regione, né del Comune né dello Stato della Regione Toscana che ci ha messo 150 milioni per realizzare quella banchina dove andai il ricazzificatore e ancora ci sono opere per circa 120 milioni c'è la seconda banchina e tutta una serie di opere complementari su cui nel momento in cui si utilizza quel porto il Governo sicuramente si farà carico di realizzarle Il Presidente Gianni si faccia veramente portavoce del sentimento dei cittadini di Piombino e dei sindaci della Val di Cornea che hanno chiaramente manifestato per il no a questa opera che dovrebbe essere ricompensata a quanto ci riporta il Presidente in questa comunicazione della quale non possiamo essere assolutamente soddisfatto e che differisce molto tra l'altro da quello che ci era stata presentata in forma scritta di un elenchino di 10 punti di questo fantomatico memorandum che in realtà non è altro che compensazioni fasulle e che sinceramente non possono accontentare o compensare un bel niente soprattutto un'opera come quella di una nave metaniera sul porto di Piombino con tutti i rischi e le garanzie che non ci deve dare una società privata come Snam ma ci deve dare il Governo e le istituzioni Noi siamo abituati alle novelle del Presidente Gianni noi però guardiamo i documenti per il rilascio dell'autorizzazione alla nave rigassificatrice di Livorno sono stati impiegati 14 anni un grande numero di tecnici hanno dovuto valutare tutte le criticità e tutti gli aspetti io non capisco come lui possa essere così ottimista e soprattutto essere così sicuro riguardo anche alla sicurezza perché mettere a repentaglio la sicurezza di un'intera città che diventerebbe non solo zona di interdizione perché se si proiettano sulla città di Piombino le zone di interdizione previste sulla nave ancorata a 12 miglia da Livorno si crea una zona di interdizione molto bassa non riesco a capire come faccia a eludere lui queste zone di sicurezza tra l'altro se anche le elude il Governo nazionale ci sono delle norme internazionali di sicurezza riguardo alle navi rigassificatrici che non possono essere eluse quindi mettiamo a repentaglio la sicurezza di un'intera città e soprattutto la trasformiamo in un obiettivo sensibile in caso di attacco armato o di attacco militare da parte della Russia che se fosse sganciato un missile su quel porto con la nave rigassificatrice creerebbe una devastazione di proporzioni epocali ecco io come non si faccia a considerare tutto questo lo trovo un enigma che dovremmo ricevere rassicurazioni dal Governatore Gianni che evidentemente non ha ancora capito che ruolo è stato chiamato a compiere perché lui è commissario per realizzare il classificatore non è commissario per decidere se fare o no il rigassificatore quindi che oggi venga a dire che firmerà soltanto se saranno garantite le condizioni nell'interesse della città di Piombino è sicuramente una bella posizione che da Governatore della Regione Toscana è giusto che assuma e nessuno dubita che da Governatore voglia tenere a cuore la città di Piombino peccato che dal Commissario lui non debba decidere hanno già deciso altri per lui ha deciso tre mesi prima il Ministro Cingolani senza sentire nessuno né tantomeno il Sindaco di Piombino che quell'opera si farà e si farà lì Eugenio Gianni ha 120 giorni di tempo per fare l'opera quindi è che oggi ci può tranquillizzare sul decalogo ancora peggio perché oggi lui legge in aula 10 punti che evidentemente ha già deciso essere le compensazioni che la città di Piombino dovrà accettare in cambio di 300 metri di nave ancorata nel porto per tre anni e questi 10 punti non capiamo con chi li abbia discussi sicuramente non con la città di Piombino perché il Sindaco Ferrari non sa niente e non è a conoscenza di questi 10 punti sicuramente non con la maggioranza che lo sostiene il Consiglio regionale che abbiamo ascoltato l'intervento del Consigliere Anselmi che ha fatto 10 anni il Sindaco di Piombino che ha parlato di non aver contribuito alla stesura di questi 10 punti quindi sono 10 compensazioni che Eugenio Gianni decide possano bastare la città di Piombino per prendersi in cambio probabilmente un danno ambientale perenne sicuramente un danno al turismo molto forte un danno alle eticulture molto forte che ha deciso non si sa dove e con chi noi dobbiamo proseguire nell'azione di diversificazione dell'approvvigionamento energetico per quanto riguarda l'Europa lo dobbiamo fare dando il nostro contributo come Regione Toscana come Italia Piombino è stata scelta dal Governo e sta dentro le logiche degli interventi di carattere europeo riteniamo che questa può essere una grandissima opportunità per la città per la Toscana non soltanto perché dietro questo investimento ci può essere lavoro ci può essere ricchezza ci possono essere delle opportunità ma non tanto per le azioni di compensazione che comunque dovranno essere negoziate con il territorio quanto per l'opportunità di avere una fonte di approvvigionamento energetica nuova che consente di rendere l'Italia indipendente dall'approvvigionamento russo questo è un elemento di grande importanza del fabbisogno nazionale è un intervento similare che si è già sviluppato tra Piombino e Livorno è evidente che siamo nella costa toscana è evidente che c'è quello che per noi è una delle priorità la grande attenzione di carattere ambientale lo sviluppo turistico le questioni della pesca tutte questioni che devono essere conciliate rispetto al rispetto ovviamente dell'ambiente rispetto alla sicurezza del lavoro ma deve essere un intervento che va nella logica di creare lavoro creare ricchezza io mi auguro anche grandi opportunità per tanti cittadini della costa che possono a quel punto avere un approvvigionamento energetico magari senza sostenere dei costi questa deve essere una scelta importante quindi vantaggi per le imprese vantaggi per i cittadini opportunità per la Toscana l'idea di andare avanti di fare riforme di fare investimenti di andare e di credere in forme alternative di approvvigionamento energetico deve essere una risposta di autorevolezza che dà forza al nostro governatore da chiostro a chiostro i chiostri del Duomo e di San Domenico accoglieranno il meglio dell'enogastronomia e della pasticceria pratese per due sere consecutive lunedì 4 e martedì 5 luglio chef e maestri pasticceri proporranno al pubblico le loro creazioni culinarie nell'ambito della Kermes da chiostro a chiostro promossa da Confese Centiprato con il contributo della Camera di Commercio del Comune di sponsor privati la manifestazione presentata stamani in anteprima a Palazzo del Pegaso sede del Consiglio regionale rientra nel calendario degli eventi di Vetrina Toscana il progetto di Regione e Union Camere Toscane l'idea è quella di valorizzare i ristoratori e i pasticceri della provincia di Prato quindi avremo la possibilità di degustare nel chiostro di San Domenico i ristoratori i piatti che appunto i ristoratori presenteranno in quell'occasione mentre nel chiostro del Cattedrale Santo Stefano avremo la possibilità di incontrare i quattro pasticceri che presenteranno per la prima volta quattro nuovi dolci e quindi è un modo di vivere un centro storico in maniera diversa Vetrina Toscana l'abbiamo rilanciata lo scorso anno e sta affiancando tutte queste iniziative io li ringrazio perché sono oltre 150 quindi è veramente siamo davvero in una condizione di esplosione di questa adesione mi pare evidente che attorno all'enogastronomia si stia ritrovando un processo identitario una comunità economica che coltiva la speranza dopo un grande periodo di difficoltà e abbraccia un progetto collettivo per presentarsi al meglio al mondo da chiostro a chiostro rappresenta il meglio che il territorio pratese sa produrre e sa mettere a disposizione dei propri cittadini oggi essere qui è un segno bello un segno di ripartenza un segno di attenzione al territorio e alle sue migliori eccellenze non solo arte culinaria in occasione della Due Giorni sarà possibile anche visitare il museo dell'Opera del Duomo si scopre non solo il cibo e i nostri sapori ma si scoprono anche i chiostri quindi si scopre anche la bellezza la cultura l'architettura di Prato e lo facciamo in un periodo che è stato un periodo difficile per tutti loro per i ristoratori e per coloro che si sono misurati e che hanno resistito in questo periodo particolarmente difficile la regione toscana ha cercato di dare una mano in quel periodo ma lo cerca di farlo anche adesso dove si parla di ripartenza e per me è un orgoglio non solo dal Presidente di Commissione ma anche da rappresentante di quel territorio poter essere qui a presentare e a dare un valore a un merito e a una sapienza tutta pratese che penso sia sicuramente un itinerario da inserire nelle tappe turistiche culturali ed enogastronomiche di questa regione ma anche di tutta Italia ringraziamo Confesercenti per questa bella iniziativa che siamo davvero contenti di poter sostenere con molta convinzione questo perché il settore dell'eone gastronomia pratese oramai si è molto affermato a livello non solo regionale ma anche nazionale e rappresenta davvero un'opportunità su cui investire anche per far conoscere Prato a livello nazionale per poter attirare anche turisti visitatori che vengano qui apposta per sentire i piatti e i prodotti tipici della tradizione enogastronomica del territorio noi lo facciamo come manifestazione comunale penso a IT Prato la manifestazione dell'enogastronomia pratese che organizziamo tutti quanti gli anni insieme con le categorie e troviamo in queste manifestazioni da costo in costo una condivisione di approccio di filosofia che tiene insieme l'enogastronomia con l'arte la storia e la cultura quindi il modo migliore per valorizzare Prato e per raccontarla anche fuori verso i confini e per accedere